Un rodeo con la monta dei tori in perfetto stile western, solo che lo scenario non è quello di un ranch della frontiera, ma la fiera di Roma, che però non è il Texas, reagiscono gli animalisti appellandosi al Campidoglio perché blocchi l'evento. E la neogarante capitolina per i diritti degli animali, Patrizia Prestipino, è netta. Ribadisco la mia totale contrarietà, è un evento lesivo del benessere animale, nonché dell'immagine stessa della capitale. L'evento western fa parte dell'offerta del Festival del Mondo, una maxi kermesse che si terrà tra la fine d'aprile e il primo maggio negli immensi padiglioni della fiera. Si tratta di un festival contenitore che prevede al suo interno oltre 30 festival, sottolineano gli organizzatori, con eventi e attrazioni dall'Oriente, dalla Scozia e poi ancora dall'Irlanda, dal Giappone, solo per fare qualche esempio, e appunto anche spettacoli tipicamente a stelle strisce. Uno di questi è il Rodeo Montadeitori, in programma il 20-21 e il 25 aprile, poi il 27-28 aprile, il primo maggio. Prestipino riporta Massimo Comparotto, presidente dell'OIPA, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, sera in effetti già attivata, invitando gli uffici preposti a garantire l'osservanza del regolamento. Noi abbiamo inviato un'istanza al sindaco Roberto Gualtieri, all'assessore all'ambiente Sabrina Alfonsi, alla Polizia Municipale e alle nostre guardie zoofile, dice il leader di OIPA, affinché verifichino che non sia violata la normativa tutela degli animali. Anche l'EMPA è intervenuta, una vergogna per la presidente nazionale Carla Rocchi, oltre ad aver attivato il nostro ufficio legale, ha spiegato abbiamo contattato il Comune per capire come sia stato possibile approvare un evento di questo tipo.